Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePa17 e oggi finalmente siamo ritornati su Splatoon Per delle nuove mische mollusche con voi Come promesso ragazzi oggi è venerdì 15 settembre Sono le ore 18 e sono online pronto a giocare con voi Ragazzi vado a prepararmi e ci vediamo nella prima partita di oggi Va bene ragazzi eccoci qua per la prima partita di oggi Mappa, palco, plankton Perfetto squadre caricate come potete vedere ho preso il rullo Allora si parte velocissimi Diamo una bella colorata poi voglio subito sbloccare la palla da criceto Ok voi state colorando di qua non c'è problema Ho preso SamuPro che probabilmente non mi ha visto passare Attenzione che c'era già qualcuno là che voleva spararci addosso e farci fuori Attenzione Uh jumpy, jumpy con il pennello che viene subito abbattuto da Davide Stava festeggiando è stato abbattuto L'ho mancato di pochissimo però Ah aveva la protezione però l'ho preso Attenzione che ho splattato Leon Che ha l'abitudine di andare troppo vicino alla zona di spawn avversaria Infatti l'abbiamo subito bloccato Attenzione che stanno già tornando all'attacco i blu Ah mi ha preso lui Moresc Perché ho alzato Ho alzato il rullo Ho alzato il rullo allora mi ha subito preso Andiamo da No non mi conviene Ripartiamo da capo Ripartiamo da capo Eh no non ce la faccio Non ce la faccio Guardalo Ha visto che mi stavo nascondendo Eh ci stanno pressando lì davanti e non ci fanno uscire Non ci fanno uscire Noi proviamo ancora Ok ho preso anche il rullo eh Che è una delle armi Che uso meno Non mi prenderei mai Non mi prenderei mai Guarda lì E io me ne vado Allora andiamo dall'altra parte Probabilmente questo match lo perderemo Anche perché non stiamo giocando molto bene La squadra blu ci sta leggermente massacrando E là là che violenza però con sto pennello Jumpy è stato subito abbattuto Comunque C'è troppo viola qua sotto C'è troppo viola qua sotto C'è di nuovo Leon Che si è appostato lì sopra Allora Lì li stanno massacrando Ok partita terminata Devo modificare qualcosina Perché con il rullo non riesco più a muovermi Preferisco ormai le armi da fuoco Anche perché riesco a colpire gli avversari senza dovergli andare addosso Vincono i blu 52-23 Non importa ci rifaremo nella prossima partita Va bene ragazzi Secondo match di oggi Torniamo nella mappa palco Plankton Sono andato a cambiare arma Ok abbiamo anche un cecchino dalla nostra parte Ottimo E si parte Velocissimi Forse devo ancora modificare un attimo la sensibilità del controller Perché su Wii U Usavo una sensibilità Più alta E lì sotto E lì sotto da qualche parte Ok abbiamo bisogno che il nostro cecchino faccia il suo lavoro Perfetto È lì È lì Preso C'era Baptista Poi è morto anche qualcun altro Attenzione Uh c'era Splat Phillip Che mi stava seguendo E c'era di nuovo Baptista Mamma mia ve l'ho detto Con le armi da fuoco normali Riesco a fare un po' più danni Il rullo ormai non riesco più ad utilizzarlo Anche perché tanti utilizzano le armi da fuoco Quindi O ti nascondi Nell'inchiostro Se no Non esci più Perché tanto ti vedono da un chilometro e mezzo C'è qualcuno che sta lanciando qualcosa E infatti è lì sotto Ed è stato abbattuto Preso Preso Mamma mia che strage Che strage La squadra azzurrina non passa Vai Ricky Perfetto Ma ci sono tutti Sì forse noi addirittura giochiamo No siamo Mi sa No ci siamo tutti Ok perfetto Attenzione Mamma mia Attenzione Non al super salto Lì Al verni schianto Anzi Non al super salto Ok ripartiamo Perché ci hanno abbattuti tutti quanti Perfetto Aspettate che passo da qua Dove sono gli altri Qui gli azzurri Han tentato Gli azzurrini Anzi Han tentato di fare Un po' di casino Possiamo salire di qua Sfruttiamo Questo potere speciale qua Che mi dà una leggera armatura Stavo sparando Da tutta un'altra parte È andata bene che Splat Phillips Sono riuscito a prenderlo Aiutato anche dal potere speciale Ok Partita terminata Vediamo chi la porta a casa Gran bel match 49-35 Ok Torniamo a vincere Fantastico Bel match Vediamo con quante kill Chiudo 9 kill Non è andata male Va bene ragazzi Nuovo match Siamo nella mappa Campus Ippocampus Purtroppo è già crashato Uno dei nostri Dovrebbe essere Mario Se non sbaglio Che si era unito Nella lobby Quindi purtroppo Giochiamo 4 contro 3 Vediamo cosa riusciamo a combinare Più che altro Vediamo anche chi c'è dall'altra parte Perché se sono tosti Vincere diventa praticamente impossibile Ok Stanno già sparando anche qua No Stiamo qua dietro Ok Usiamo questo E andiamo all'attacco Ehi là Mamma mia Mamma mia Chi è che spara sti colpi Omar Con il blaster rapido Si è piazzato lì Non ci lascia passare Ari grande E' andato di là E' andata di là Allora Lì sotto Via Siamo riusciti a sfondare La loro difesa Si Ok Attento Attento E chi lo piglia E chi lo piglia Andrea Con questo caspita Di jet splat Ne hanno pure uno Che non sta facendo nulla Si sta praticamente riposando Allora Coloriamo tutto quello Che c'è da colorare Vai Robin Attenzione ai lati E qua L'ho visto Eh sta distante Sta distante Perché se no lo piglio Scendiamo di qua Ok C'era Poo Che probabilmente è quello che abbiamo visto prima Non fare nulla Pieno di rosa No Attenzione Infatti avevo visto Una bomba curling Passare così A caso sul tracciato Sulla mappa Scusate Che tracciato Mica è una gara Eh non si passa Non si riesce a passare Non si riesce a passare È pazzesco Allora Proviamo a fare una roba Poi vabbè Se mi splattano di nuovo Pazienza Sì però Ho preso almeno Andrea Vai Ari Vai 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 Ho preso ancora Poo Però mi sa che non basta Mi sa che non basta Perché siamo andati all'attacco Però loro ne hanno approfittato 42 a 39 Rendiamoci conto Vincono di pochissimo Era crashato Mario Da noi Porta a casa 5 kill Comunque Va bene ragazzi Nuovo match Torniamo nel palco Plankton Ok Allora Dobbiamo rifarci Per la sconfitta di prima Comunque prima Era crashato anche Imperatore Quindi alla fin fine Eravamo 3 contro 3 Allora Diamo una colorata Velocissima Qua Poi mi butto Di qua Sono già sul palco Niente Non riesco ad avvicinarmi a Omar È pazzesco Bisogna prenderlo In due Uno davanti E uno che lo prende alle spalle Perché tanto sa sempre Dove Da dove arrivi Ce n'è uno qui sotto Sono in due Sono morto Ah è riuscito a salire su Robin Rendiamoci conto È riuscito a salire su Ho preso Omar è lì Si ha splattato tutti quanti Praticamente Sono tutti qua Ho preso Andrea Mi piace Pu Che non sta facendo niente E segue semplicemente I suoi compagni di squadra Allora Il giochetto che vogliono farci Non mi piace Infatti li anticipo Provo a passare di qua Ok A colorargli tutta questa zona qua Dai 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 Su Andiamo 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 Ok Gli coloro tutto quello che c'è Da questa parte di qua Poi qualcuno tornerà indietro No? Qualcuno sta sparando dei missili Infatti Meglio darsela a gambe Non riesco a capire dove sia Allora Torniamo indietro Preso Ho preso Omar L'ho detto ragazzi Avevo bisogno dell'aiuto di qualcuno Adesso tornerà sicuramente alla carica No non ci credo Sì l'ho preso Ho preso Pu Non so se però è lui Che è atterrato A tutta velocità Ok Aspettate che faccio un super salto Speriamo di non morire Ok Non è riuscito a prendermi Omar Però stava tentando In tutti i modi Dopo che sono riuscito a prenderlo La 53 a 30 Mamma mia Siamo riusciti a ribaltare la situazione I miei compagni Hanno tenuto Occupata la squadra rosa Mentre io ho colorato Tutto quello che c'era Alle loro spalle Va bene ragazzi Eccoci qua Niente da fare Dobbiamo rigiocare di nuovo Nella mappa Palco Plankton Speravo di cambiare E tornare nel campus Ok Non importa Ho preso di nuovo Repol per duplo L'arma che mi permette Di fare tutte le capriole Che voglio Ok Prima abbiamo portato a casa Una bella vittoria Speriamo di replicare Bella mossa Bella mossa Perché lì Posizionato così Può fare I grandi danni Oh Era proprio lì sotto Non ho preso nessuno Più che altro Non so neanche dov'è Sono troppo vicino Alla zona di spawn Una rosa Infatti Gain Era lì dietro Probabilmente Aveva visto Che lo stavo inseguendo Arrivo Copritemi Grazie E vabbè Però Se non mi coprite Camilla mi può far fuori Ok È stata abbattuta Da Tom Ma guardate Che macello Che ha piantato Su qua Ok Inutile Intestardirsi Andiamo da questa parte Di qua Ok Diamo una bella Colorata Stavano arrivando Dei razzi Ok C'era Gain Razzi Presa Ne arriva un altro Vieni 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 Preso E poi Dodi Mi ha preso Con La Cromosfera Cromosfera Si chiama Ok Hanno steso Tutta la nostra Squadra No Devo andare di là Devo assolutamente Andare di là Perché ci stanno Abbastanza Asfaltando Ok Ok Doppi razzi Dai voglio fargli perdere tempo Lì No Dai Ok Ho preso Tato Ok Ho preso Gain Di nuovo Dai ragazzi Che devono Ricolorare E quindi Magari qualche Secondo Lo guadagniamo Una bomba Così a caso E Partita Terminata Vediamo Come è andata a finire Non lo so 45 37 Niente da fare Ci ho provato Però Hanno vinto loro Chiudo con 5 kill Va bene ragazzi Nuovo match Torniamo nel Campus Hippocampus Ok Squadre caricate Qualcuno È riuscito a entrare E si parte Stavolta Camille È dalla nostra Parte Ah Voglio colorare Io Voglio colorare Io Mi servono I punti Colore Dai che Fin quando Sono tutti Vicini Posso fare Una strage Con Lanciarazzi Ok Non ho voglia Di ficcarmi Là in mezzo Perché Rischiamo Dove sono Ce n'è due Là Li ho pigliati Ok È riuscito A salvare Ah no Non è riuscito A salvarlo Infatti Sono riuscito Da abbattere Anche Tom Ok Coloriamo Bene Perché siamo Corsi Velocemente In mezzo La mappa Arrivo È lì sopra Non muoiono più Però Non muoiono più Dai Respawnate È crashato Qualcuno Comunque È crashato Qualcuno Non lo posso Pigliare Non lo posso Pigliare Perché dentro La bolla Di protezione Della zona Di spawn Vabbè Torniamo Di qua Non importa Non stiamo Neanche Troppo Vicini Ok Ho preso Angel Sì però Mi sa che È crashata Mezza Squadra Blu È crashata Mezza Squadra Blu Ok Di qua Non si può Passare Quindi Noi Passiamo Di qua Sì ma Li stiamo Schiacciando Ok che mi piace Vincere Però così Diventa Abbastanza Noioso Eh sì Non riescono Neanche a uscire Eh Vabbè Ragazzi Niente da fare E sono in tre Eh però Eh infatti Adesso Uno dei nostri È stato abbattuto Di qua Ah Torniamo Alla carica No Ah È riuscito A prendermi È riuscito A prendermi A pochi secondi Dalla fine È riuscito A prendermi Vabbè Direi che comunque Abbiamo vinto Noi gialli Senza ombra Di dubbio 69 a 13 Li abbiamo massacrati Un massacro Veramente un massacro Mi spiace Per la morte finale È crashato Tato Dall'altra parte Io faccio 5 kill Va bene ragazzi Ultimo Match Di oggi Torniamo Nel palco Plankton Squadre Naturalmente Mischiate E si parte Velocissimi Siamo di nuovo Verdi Ok A tutta velocità Voglio sbloccare Subito Il lanciarazzi Vai 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 Che ci sono già i rosa Che attaccano Vai Che ci sono già i rosa Che attaccano Eh no però Così no 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 Ok Per fortuna Sono riuscito a scappare via Quei due lì Ok Ok Ho preso zap Che stava cercando di passare Da sopra Qui devono aver aggiunto qualcosa Perché prima non mi ricordo Che si potesse salire fino qua sopra No 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 Accidenti Dai Accidenti E' riuscito a riprendermi Subito Arrivo Non morire Eccolo lì Ciao Me la do a gambe elevate Visto che sono riuscito a sopravvivere Perfetto Vai 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 Io passo qua sopra Mamma mia Che sventagliata Dai che li stiamo bloccando Li stiamo bloccando Attenzione Mamma mia Guardali rosa di qua Che provano a passare C'è uno dei nostri Qua dietro Cosa Uh Non ci provare Sai Sei riuscito a scappare Però Ti è andata bene Che avevo il lanciarazzo in mano Daniel Perché sennò Con quella bomba lì Non mi avresti mai preso No Quella striscia di rosa Mi ha rallentato E ho sbagliato a saltare No devo Passare Qua Dov'è? Scappa via Via Attenzione 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 Ok Meno male che il mio compagno di squadra Mi ha salvato Ma da che distanza Ah E c'era di nuovo Zap Che è stato subito abbattuto Dai ragazzi Non posso fare più nulla Faccio solo questo Eh mi hanno preso Negli ultimi secondi E non potevo fare più nulla Direi che comunque La portiamo a casa noi Senza ombra di dubbio 56 a 31 infatti Bella vittoria Peccato non essere riusciti A portare a casa Più kill Una sola kill Una sola Va bene ragazzi Eccoci tornati Nel menu principale Di Splatoon 2 Gran belle partite Abbiamo portato a casa Delle gran belle vittorie Anche delle pesanti sconfitte Comunque ci sta E' uno sparatutto Si vince E si perde Ragazzi come sempre Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui Su Splatoon 2 Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi